La duchessa di Cambridge era pronta a intervenire per stare al fianco di suo marito se Harry non avesse potuto fare il viaggio a causa dell'arrivo imminente del suo secondo figlio L'arrivo della bambina di Meghan Markle e del principe Harry ha spianato la strada a Harry per assistere all'inaugurazione di una statua della principessa Diana a Kensington Palace. La duchessa di Cambridge era pronta a intervenire per essere al fianco di suo marito il primo luglio se Harry non avesse potuto fare il viaggio a causa dell'imminente arrivo del suo secondo figlio. Punto punto. Ma il secondo figlio di Meghan e Harry e la sorellina del loro figlio di due anni Archie, Lilibet, sono nati venerdì 4 giugno alle mezzogiorno meno 20 al Santa Barbara Cottage Hospital in California. Harry, 36 anni, e il fratello Prince William, 38 anni, sveleranno la mostra su cui stanno lavorando e progettando dal 2017. Ha confermato agli assistenti che parteciperà alla cerimonia il mese prossimo, nonostante le preoccupazioni che potrebbe non essere stato in grado di farlo di persona. Un basamento per la statua è stato posato nel Sunken Garden del palazzo, che si dice sia il luogo preferito di Diana nel parco. Punto. Nel 2017, 20 gradi anniversario della sua morte, lo spot è stato trasformato in un tributo a Diana, con un'esposizione dei suoi fiori preferiti tra cui rose bianche e gigli, tulipani e margherite. Sean Harkin, il capo giardiniere di Kensington Palace, ha affermato che la scelta dei fiori riflette l'amore di Diana per i fiori crema e bianchi. Harry dovrà produrre un test covid negativo prima del suo arrivo e farne altri due quando si trova nel Regno Unito. Potrebbe essere costretto a mettere in quarantena per 10 giorni nella sua casa di Frogmore Cottage, nei terreni della tenuta di Windsor, proprio come ha fatto quando è tornato per il funerale di Phillip. Punto punto. Ma potrebbe liberarsi dalla quarantena se producesse un test negativo il quinto giorno della sua permanenza. Una fonte ha detto. Harry ha detto che farà del suo meglio per essere lì. Vuole mettersi su un fronte unito con William e rendere un tributo appropriato alla loro madre. La decisione di Harry, insieme a sua moglie Meghan, di chiamare la loro figlia appena nata Lilibet che sarà conosciuta come Lily dal soprannome affettuoso della Regina che le era stato dato da suo nonno Giorgio V da bambina dopo aver avuto problemi a pronunciare Elisabetta, ha lasciato il monarca, contentissimo. Gli addetti ai lavori sperano che la gioiosa notizia farà molta strada per iniziare a guarire il rapporto fratturato tra il duca e la sua famiglia, dopo che ha trascorso gli ultimi mesi accusando la famiglia di razzismo e abbandono nelle interviste televisive dopo aver lasciato la vita reale e stabilirsi negli Stati Uniti.